Dopo una riunione di circa 10 ore conclusosi questa mattina alle 5, la commissione disciplinare della Lega Calcio ha emesso la sentenza relativa al processo sulle scommesse per le partite Avellino-Perugia e Milan-Lazio. La sentenza è stata resa nota verso le 10 di questa mattina. Questa è la sentenza. Per il Milan, retrocessione in Serie B. Avellino e Perugia partiranno da meno 5 nel prossimo campionato, 10 milioni di ammenda e di fida per la Lazio. Che il Milan abbia sbagliato giù, non deve pagare. Ma per la vendita giù, perché devono pagare il prossimo anno? Perché? Questa mattina, molto presto, qualche centinaio di tifosi si è radunato davanti alla sede della Lega Calcio, dove ieri si è concluso il processo. La sede naturalmente è rimasta chiusa. Una volta presa la notizia sulla sentenza c'è stato questo tipo di reazione, ma nessun incidente. L'impressione è che la tifoseria milanista fosse preparata alla retrocessione. Era preparato del resto anche il presidente Felice Colombo, che un paio d'ore fa ha ricevuto qualche giornalista nella sua casa a Bellusco, alle porte di Milano. Colombo ha ricevuto anche una telefonata da Rivera, che in questo momento si trova in Australia con la squadra. Tra l'altro Rivera era già al corrente della sentenza.